Arriviamo ad un altro mega autoregalo che mi sono fatta come potete vedere da Dior Arriviamo al mega mega acquisto che ho fatto da Chanel, la mia nuova baby Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora oggi nuovo video haul, ho fatto un po' di spese pazze mie e solite In particolare devo farvi vedere il mio nuovo super acquisto da Chanel ragazzi Che ho fatto prendendo appuntamento alla boutique perché qui sono chiuse solo su appuntamento e ho trovato quello che volevo Ma prima ho un sacco di altre cosine da farvi vedere tra cui alcune cosine che vi sono arrivate dalle aziende Che sicuramente vi piaceranno, iniziamo perché è la prima cosine che voglio farvi vedere ragazzi Vi è arrivata la nuova Naked da Urban Decay, super emozionate della Naked Wild West L'ho già aperta perché ero troppo curiosa, guardate che meraviglia Adoro il packaging, il fatto che abbia questo snake print Bellissima ma soprattutto I colori sono veramente veramente stupendi È bellissima, bellissima C'è qualche colore appunto un pochino più acceso Per il resto sono abbastanza naturali E non vedo l'ora di utilizzarla anche perché come pigmentazione, come qualità veramente Le palette Naked sono uno step soprattutto Poi mi è arrivato questo pacchetto da Laneige Che non sono sicura di saper pronunciare in francese ma ci sono un sacco di cosine super super interessanti Mi hanno spedito due water pocket sheet mask, due maschere idratanti Poi mi hanno spedito, wow, ci sono il clean duo, c'è una maschera ed un gel purificante Non so se lo conoscete questo brand Ma è molto molto interessante per quanto riguarda la skin care Poi mi hanno spedito questo trial kit da 5 prodotti E ci sono la Multi Deep Clean Cleanser La Mini Pore Mask Poi c'è un toner, un gel idratante ed un Blur Perfector E questi sono i prodotti che appunto sono tutti mini size Però io adoro i mini size Sono super utili sia per testare nuovi prodotti Che per portarli in giro senza appunto portare troppo peso E poi all'interno ci sono anche questi adesivi Troppo troppo carini Adoro E poi allora c'è un altro Questa è una sleeping mask Quindi una maschera per la notte Per le labbra tra l'altro Ottimo perché non ho nessun tipo di maschera per le labbra In questo momento ne ho assolutamente bisogno Perché burro o cacao Ok ma non è idratante come una maschera per le labbra Quindi ottimo E poi ci sono un sacco di altre cosine C'è Time Freeze Sleeping Mask Molto molto bello Devo dire anche il pack Dateci un'occhiata a questo brand Se ancora non lo conoscete E poi ci sono Allora questo è Questa è una Quick Hydro Pen Fantastico Questo è un prodotto Che va appunto con precisione Ad idratare le zone più problematiche Per me è perfetto Perché sul mio viso ho zone che sono secche Zone che sono grasse Zone che sono una via di mezzo Che cambiano con le stagioni un casino Però un prodotto come questo mi serviva sul serio Quindi sono super contenta di provarlo E poi abbiamo altri due prodotti Questa è una Skin Refreshing Mist Fantastico Un'acqua rinfrescante Che dalla primavera all'estate Torna sempre molto utile Io in estate uso litri di questi prodotti qua E poi mi hanno spedito il Multi Deep Clean Cleanser Quindi un detergente Che va a pulire in profondità Per pelli da normali a miste Quindi direi Ottimo Ottimo Per me davvero Poi da Eterea Mi sono arrivati questi due pacchetti giganteschi Ragazzi Ci sono un sacco Di prodotti All'interno E vediamoli assieme Ve li farò naturalmente vedere Poi anche su Instagram Perché so che non tutti quelli che mi seguono su Instagram Mi seguono anche su YouTube E viceversa Comunque sono veramente dei pacchetti meravigliosi Ci sono addirittura all'interno anche le calecche e caramelle Io adoro quando ci mettono le aziende Ci mettono tanto impegno Per appunto per spedirmi dei bei pacchetti Lo apprezzo tantissimo E qui ci sono Allora c'è Uno shampoo delicato e idratante Ottimo Mi serve veramente per i miei capelli Poi abbiamo Un siero Penso Siero Contro i danni da stress Indotti da raggi UV E quindi Antiossidante Fantastico Eccolo qua C'è anche il contagocce Ed è concentrato Fantastico Sicuramente già conoscete questo brand Ma appunto Se ancora non lo conoscete Dateci un'occhiata Perché è ottimo Poi abbiamo Un Termoprotettore Bifasico Sempre per i capelli Abbiamo una maschera Ristrutturante All'acido Ialuronico Wow Poi una lozione Anticrespo Chiudi scaglie Fantastici Questi prodotti Ragazzi È molto importante Andare a chiudere Le scaglie del capello Sono quelle che danno La sensazione Di capello Rovinato E quando sono rovinati Perché appunto Hanno tutte le Le scaglie Aperte Poi abbiamo Un risciacquo Acido Lucidante Che onestamente Devo informarmi Sull'uso Raramente mi arrivano prodotti Che non so usare Ma questo Devo veramente Informarmi E poi Una crema Capelli Setificante Wow Cioè io adoro Poi con questo Packaging Bellissimo Rosa C'è una Mousse Antibatterica Questo è un detergente Per il viso Antibatterico E poi Sempre della stessa Linea Abbiamo Il Bamboo Clot Che carino Anche con il fiocchettino Adoro E questo va Inumidito Con acqua tiepida E poi passato Sul viso Per andare A rimuovere Residui di trucco Eccetera Che figata E ne abbiamo Un altro Di pacchetto Di Eterea Adoro No vabbè Troppo bellino Notare anche La La card Di virgola Che io adoro Veramente Ed è bellissima Sempre della stessa linea Con questo pack Rosa Mi hanno spedito Il makeup remover Un balsamo Detergente Eccolo qui Sono molto curiosa Di provarli Questi prodotti Questo brand In particolare Già qualcosina Avevo provato Però adesso Ho veramente Un sacco di prodotti So che sono molto delicati Quindi Mi piaceranno Penso E poi abbiamo Lift and light Questo è un'essenza Rigenerante Ed illuminante E all'interno Ci sono Dei veri Fiocchi D'oro Spero riusciate A vederli In videocamera Sempre con le scaglie D'oro Mi hanno spedito Anche questo siero Che si chiama All you need Super serum Bellissimo il pack Devo dire Veramente Io Rimango sempre In bambolata A guardare anche Il pack Dei prodotti Più forte di mezzo Che è importante Ovviamente Il prodotto in sé Però il packaging Cioè l'occhio vuole La sua parte Poi della stessa linea Mi hanno spedito La lift and light Gold mask E la lift And plump Gold eye cream Wow Io sono sempre alla ricerca Di creme Occhi Anche questa Le scaglie dorate No vabbè ragazzi Cioè Stupenda Ve vedete Ci sono anche qui Sul tappino E altri due prodotti Da eterea Mi hanno spedito Il riparatore Giorno e notte E la maschera notte Idratante Anti age Arriviamo A questo punto Agli autoregali Che mi sono fatta Questo probabilmente Non vi stupirà Particolarmente Perché ho preso Il libro Catwalk Anche di Louis Vuitton Come sapete L'ho già preso Di Prada E Saint Laurent E questo Mi mancava E assolutamente Dovevo Dovevo prenderlo Non so perché Non l'ho preso Prima Alla fine Ma Appunto Molto contenta Adesso di avere Anche questo Io l'ho preso Su un sito Olandese Che è Boll.com Però Ho controllato Per voi Se volete E li trovate Anche su Amazon Basta scrivere Louis Vuitton Book O Louis Vuitton Libro Stessa cosa Per quello Prada O Saint Laurent Li trovate Su Amazon E ci sono All'interno Tutte le Fashion Collection Tutte le Sfilate È meraviglioso Stare a guardarle Potrei Veramente Imbambolarmi È bellissimo Veramente Ripercorrere Le varie Le varie Passerelle Con Louis Vuitton E Sono Appunto Sono contenta Di aver preso Questo Anche adesso Anche se Onestamente Siamo onesti Ma Più che altro L'ho uso Cioè l'ho uso L'ho preso Per arredare La casa Perché secondo me È ottimo Come arredamento Ok Non giudicatemi Adesso la mia collezione Di libri Luxury Della Catwalk Può considerarsi Terminata Perché mi sa Che ci sono Solo questi tre Se ce ne sono altri Voi lo sapete Fatemi sapere Perché ovviamente Mi metto alla ricerca Poi Arriviamo Ad un altro Mega Autoregalo Che mi sono fatta Come potete vedere Da Dior Qui Ho ordinato Online Anche se sarei potuta Anche andare al negozio E alla fine Potevo prendere appuntamento Però buh non lo so Forse online Era molto più semplice Qui C'è la Fattura E Notare sempre Veramente Ragazzi Cioè dobbiamo Ammirare La bellezza Dei pacchetti Dior Sono Veramente Stupendi E questo È il Pacchettino Che ho preso Ragazzi Tataran Tataran Andiamo a Sfilare Il fiocco Tataran Dal pacchettino Potete vedere Che naturalmente Si tratta Di un gioiello Tataran Tataran C'è il sigillo Dior Che andiamo A strappare Anzi Andiamo direttamente A sfilare Allora Qui c'è Il piccolo Book Con tipo Le care instructions E questa È la Cosina Che ho preso Questa È la Piccola Dust bag Che è cambiata Ultimamente Perché le ricordo diverse Erano grigie prima Adesso le hanno fatte così Oppure mi sbaglio io Ma credo di sì Bella però Mi piace Con la scritta Dorata Brillante E all'interno Tataran Si ho preso un anello Che spero Spero mi vada Ed è questo Bellissimo Wow Cioè Non l'avevo visto dal vivo Ma è mille volte Meglio dal vivo Che sul sito Però io avevo preso Una M E questo mi sembra Piccolino Io spero che mi vada Oh mio dio È perfetto Non ci posso credere Questo è l'anello Che ho preso È semplice Specialmente ultimamente Mi piacciono gli anelli Che non sono troppo Spessi Troppo vistosi E quando ho visto questo Sul sito Dior Me ne sono innamorata Però appunto dal vivo È cento volte meglio Di quanto mi aspettassi E c'è la scritta Appunto Semplice Semplice In oro giallo Dior Con accanto Un Un brillantino E volevo Assolutamente Indossarlo su questo dito Quindi è perfetto Ero in dubbio Se prendere Perché non c'erano Le solite taglie Su questi anelli C'erano solo Small Medium Large Extra large Se non sbaglio O tre o quattro misure E io ho preso la medium Però Non ero sicura Se prendere la small O la medium Perché appunto Volevo metterlo Sull'anulare Ed è perfetto Ragazzi Perfetto Assolutamente C'era un altro set Che mi ispirava Che forse prenderei Ed è un set Di tre anelli Che è tutto sommato Per il prezzo Adesso non ricordo esattamente Però tutto sommato Per il prezzo Un set di tre anelli Dior Era veramente Basso Però Erano un pochino Forse troppo Appariscenti Quelli lì Questo è più semplice E mi piace Veramente Tantissimo Bellissimo E c'è anche Il tagliandino E poi Arriviamo Al mega Mega acquisto Che ho fatto Da Chanel La mia nuova baby Quindi Adesso Se voi avete visto I miei video In cui vi dicevo Anzi Non vi anticipo Troppo Già ho spacchettato Questo Cioè Già ho fatto L'unboxing Perché L'ho filmato Per metterlo Su Instagram Nei reels Però Non ho ancora A parte Per quel video Mini video lì Non ho ancora Guardato nulla Non voglio spoilerarvi Di cosa si tratta Non so perché Visto che tra dieci secondi Lo vedrete anche voi Ma Ragazzi Unboxing Assolutamente in diretta Tatara Tatara Io l'adoro Se avete visto Piccola premessa Se avete visto Uno dei video In cui vi dicevo Le cosine Che ho dato via Di cui mi sono pentita C'era una cosa Che io volevo Tantissimo ritrovare Ok Se Commentate Pausate il video Stoppate il video Commentate Se sapete Di che cosa si tratta Se non lo sapete Lo scoprirete Tra poco E Tatara Tatara Sono riuscita A trovarla Ragazzi Sono riuscita A trovarla Non lo so Era destino Naturalmente Dalla dust bag Potete vedere Che si tratta Di una borsa classica Ma dovete vedere Il colore Ragazzi Tatara Tatara Ragazzi Tatara Ebbene Ebbene Sì Sono riuscita A trovarla Nel colore Tiffany In realtà Questo naturalmente Io l'ho presa Della boutique Quindi non è esattamente Il colore Che avevo Dell'altra borsa Che era appunto Color Tiffany Perché quella era Di una collezione Di un colore Usciti nel 2018 Se non sbaglio Questa è Una nuova edizione Appunto Del 2021 Ed è un pochino Più scuretta Rispetto al colore Della borsa Che avevo Appunto Anni fa Che poi ho dato via Che mi sono pentita Eccetera eccetera Anche se ci avevo Guadagnato su In realtà Quindi comunque Ho fatto bene Però Mi mancava Nella mia collezione Quindi Quando sul sito Ho visto Che c'era Di nuovo Una Chanel Color Tiffany Sono impazzita Ho subito Fatto lo screen L'ho portato Alla boutique E non ci potrete Credere Ma ne avevano Solo una Questa Che era arrivata Quel giorno Lì Praticamente Era arrivata Per me Una volta Che l'ho portata In cassa Erano tutti Lì A chiedere Se ce ne fossero Altre Ed era L'unica Era lei E una Medium Come Grandezza Quindi in realtà È più grande Rispetto a quella Che avevo preso Anni fa Colore Tiffany Perché quella Era una Small Quindi la misura Un pochino Più piccolina Rispetto alla Medium La conoscete All'interno Appunto La grandezza Medium Direi che è perfetta Sia da giorno Che da sera È un po' Il classico Chanel Appunto La medium Dietro c'è La tasca Insomma E sono Troppo Troppo Contenta Di averla Trovata Ragazzi In molti Pensavate Che avrei Preso La Quella Nuova Classic Quindi sempre uguale a questa Però in colore verde Perché si vede molto in giro quella verde Però onestamente su di me Che è un sottotono rosato Il verde Non sta particolarmente bene Forse qualche tonalità di verde Però In linea generale Non è un colore Che mi fa impazzire Avevo una Chanel verde Tempo fa Come sapete quella in tessuto E l'ho data via Perché non la usavo mai Ma sono stra felice Veramente Di averla trovata Era lei Ce n'era solo una Ed era lì Per me E la amo La amo Ragazzi Sono curiosa di vedere Che cosa mi direte voi Appunto Non posso Metterla a fianco A quella che avevo Però il colore È un pochino Più Un pochino Più scuro E appunto È un modello Più Più grande La pelle È in Lamp skin Quindi la pelle Più delicata Ma anche Quella più bella E l'hardware È Argento Mi dispiaceva un po' Che fosse Argento Perché mi sarebbe Piaciuto Vederla con Hardware Champagne O dorato Però Devo dire Che non ho Ultimamente Preso tantissime Borse con Hardware Argento Quindi Era veramente Il caso Di cambiare Un po' Anche se mi direte Nicole Non stai cambiando Perché ne prendi Un sacco di borse Classiche Eccetera Poi mi arrivano A volte dei commenti Tipo Queste chanel Che arrivano Io con tutto il bene Del mondo Che voglio A chi mi scrive Questi commenti Non si intendono Per niente Perché mi dicono Eh sono tutto uguali Nicole Sono tutto uguali Cambia solo il colore Cioè da una parte Avete assolutamente ragione Però Il bello di chanel È proprio questo La borsa classica Che viene riproposta In tantissimi colori Tipologie di pelle Hardware Diversi E quindi Lo so Che se Non siete Fan Svegatate Di chanel Come me Probabilmente Penserete Ma perché Prendi un sacco di borse Che cambia solo il colore E leggermente la grandezza Ragazzi Queste sono A parte che a me Il modello classic Per me È il modello Che mi piace di più Ok Quindi sono fortunata Perché il modello classic È anche quello Che guadagna Di più In prezzo Nel tempo Quindi Al contempo Sono anche un investimento Perché io penso sempre Un domani Magari Non lo so Avrò una bambina E quando sarà grande Tutte le borse che avrò Le darò a lei E lei potrà decidere Se tenerle E usarle Oppure se rivenderle E in quel momento Se mai deciderà Di rivenderle Ci guadagnerà Tanto Tanto su Tanto Perché io già vendendole Dopo un paio d'anni Ci guadagno Quindi non oso immaginare Dopo 15 20 30 anni Sono dei veri e propri investimenti Ma io l'ho presa Per indossarla Non per venderla Non voglio darla via Non rifarò Questo Questo sbaglio Ve lo garantisco Quindi Sì E lei La mia nuova baby La mia nuova Chanelina Colore Tiffany È stupenda Tra l'altro sta anche bene Con la maglia di oggi Tutto pastel Quindi Mia family Questo è quanto Per il video di oggi Fatemi sapere Se vi è piaciuto Adesso devo Scappare Assolutamente Dal dentista Quindi Questo è quanto Per il video di oggi Vi mando un bacio Gigantesco Aspettate Metto via la Chanel E vengo ad abbracciarvi Forte 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 E noi ci vediamo domani Sempre puntuali Alle 17.30 Ciao 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 Grazie a tutti.